Ciao ragazzi, benvenuti con noi sui due di Parnazzo Crew E oggi siamo qui allo Stadio Olimpico con Pietro e tutta l'orchestra suonando la musica della Champions Oggi faremo la reaction Roma-Shakta Ragazzi, mi raccomando, speriamo, pregando Santotti che questa partita la vinciamo e passiamo al Puglia Mai Quanti Ringrazio la Roma, ringrazio Insa, tutti per avermi dato la possibilità Tribuna d'onore, ragazzi, tribuna d'onore, poi vi faccio vedere da dove registriamo noi E lasciate 10 di like se mi piacciono questi contenuti Che se dovessi passare la Roma, ragazzi, se dovessi passare, noi vediamo Magari il Puglia Real, chi lo sa Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo Dobbiamo vincere, dobbiamo vincere Dobbiamo vincere, dobbiamo vincere Dai, grande È partita ragazzi, è partita, è partita Polarov, Polarov Dai, oh, vai, dagliela Dai, 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 dai Dai, dai Dai, nooo Da dove siamo messi bene in campo? No, no, non parla, non devi dire queste cose Ma che ha detto? Stiamo un troppo, stiamo messi bene in campo Non devi dire, stiamo messi bene in campo Hai una partita adesso? Non parlare, non parlare Non lo dico, lo dico a fine partita Ragazzi, c'è un sedile risparndato Siamo sul punto di salvazione Vi dico solo questo Se tu non c'è la partita? Diretta la partita Diretta la partita Vai, vai Eccola Ah, sì, va da bella Non un minuto ragazzi, in punizione Calcio d'angolo per loro Calcio d'angolo per loro Ma hanno fatto il doppio testo ma hanno fatto il primo in corto Dai, dai, dai Oh, ha caduto Oh, cazzo No Mamma, ha caduto Non lo so, poteva stare anche a fare l'unità No, ma mi sai lui è andato addosso No, mi sai lui, sì, mi sai che è andato addosso E' andato lui Bravo mamma mia Fai la, fai la Dai 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 Nooo Non lo metti in mano Ancora adesso sai come cambia la partita? Ma perché parla? No, se avessi segnato adesso Non ti senti io parlare, non devi parlare Non si fanno i suoi tipi di consigliere Ma non mi ha fatto niente Quanti si fiscano avanti su? Trottissimo Sono da Roma Io non si scano a vedere niente Lo vediamo Io sono oggettivo Non devi parlare, non devi parlare Allora raga Io probabilmente gli ho detto Raga mi si sta bruciando sicuro Sì, pure a me Insomma è tutto caldo Perché è caldissimo Sti dietro tanto Mi rigiro verso di lui E mi è freddo A me è un po' freddo A me è un po' freddo Non mi stai scavando a fare Non gli funziona questo Mentre a noi sì E poi dice Io non sono scaramantico Non fate parlare Ma parla, parla, parla Succedono tutte queste cose a lui E poi dice Io non sono scaramantico Dovresti però Ma è un problema della sedia Non c'è qualcuno dall'alto C'è qualcuno Fidati C'è qualcuno Ti dì niente I risultati Segui un altro consiglio Ok Ho preso la carriera Quindi Ho fatto un po' stupissimo Soprano fino a che poi ti succede questo Invece devi arrivare Ti siedi Zitto zitto Ok Dai Perotti Dai Perotti Bravo Lo so bene Oh L'ha levata il portiere L'ha levata Si perdono tempo E mira Dai Dzeko Un attimo tiro Che bello Oh Che sta passando Trentesimo Regà No 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 Regà Ha perso la palla Fazio Bravo Bravo Mamma mia Trentaduesimo Fazio che perde palla così Ci ha messo la terza Si Ci ha appoggiato La spalla sopra Questo è andato lungo proprio C'è di Francesco Che bestemmia Tutti gli santi Si si Guarda S'ha sbroccato tantissimo No Cos'è Oh Bello Materna santa Tiro Mamma mia Rosso Uffidi che mi ha fatto Uffidi che hai fatto Uffidi che hai fatto L'ho fatto Ho fatto una era buona Buckle Fifa Dove sono le quattro stelle di skiller L'ho fatto una era buona assurdo Un minuto di... Io sto guardando l'ambasciatrice russa. Sto guardando l'ambasciatrice russa? Cioè, ma che tipo? L'amorosa? Eh? Andiamo a bagnare. Andiamo a bagnare l'altra volta. È quasi finita ragazzi, il primo tempo dobbiamo per forza svegliarci il secondo. Allora, eri in sé il secondo tempo, noi abbiamo fatto un po' tardi che stavamo bagnando. E tu? Io stavo facendo un minuto. Mi è venuta tipo tutta sfoccata. E io, mamma, dove siete? Questo perde tempo, il suo portiere maledetto. Dobbiamo fangolle? Mamma mia! Nei ragazzi! 1-0 per rovi! Nulvero dove é... Halì! Cheto! Halì! Cheto! Halì! Cheto! Halì! Halì! Cheto! Halì! Cheto! Halì! Halì! Cheto! Cioè praticamente l'arbitro ha munito per proteste Manolas per un fallo laterale che era dalla Roma. Cioè noi siamo qua ragazzi, siamo a 10-15 metri. Noi stiamo vandolando di Olaide. Cioè non lo so di cui. Non possiamo fare noi il VAR davvero. Dai Lascia, vai. Gira. Oh! Oh no! Che mamma mia! Non mi sta dentro! Non mi ha girato. E ce l'ha preso all'interno. Mi stavo scendendo in campo. Madonna! Non lo posso inquadrare, c'è Alisson al centrocampo regà. Sova al super... Poi tirare a volante, per esempio come si fa il giro. Io quando giocavo stavo a tre quarti. Ma andato al centrocampo. Vai contropiedi, ma vedo. Contropiedi. Oddio. 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 Mi ha capito. Quante forte dai Golan? Quante forte dai Golan? Eccolo! Vai! Ma che cazzo fa? Perché non lo ha tirato subito? Oh perché non lo ha tirato subito? Perché è a destra, perché è Mancino E' rosso, questo è rosso E' rosso, è rosso E' Dentino che è tornato in macchina No, ma non era entrato No, stava per in tempo Lo sento era espulso in numero 18 order C'era Dentino Che era arrivato Dentino, è arrivato quello che stava con il cartello in mano Gli aveva spulso uno e ti è rientrato adesso Peccato di me Peccato Un altro rosso Oh, se la fa botte, regà Che cazzo è successo? Ecco Oh, c'è pure Alisson Ma pure Alisson, che sta? Si è ancora litigato Guarda, sta litigando per lo strotto Facundo La devo chiamare Facundo Oh, regà, questi stanno attaccati Fuori Sto a cacassotto Mamma mia Sto a morire, regà Sto a morire, regà Eeeh Alla fuori Sto a cacassotto Sto a cacassotto Sto a cacassotto Stanno attaccati questi Sto a cacassotto Inizioni Inizioni 87esimi Non puoi dire quando attaccano Sono bravi Perché poi si fomentano Capisci? Mi sento, mi dici Ti sento Se fomentano Non va bene 4 minuti Recupero 4 minuti Siamo messi Cacassotti Oficieri Soprosto Davanti Dero Soprosto Deficitivi Bruzo La bocchina Ma va Foncone Quattro Contate Oh Oh Madre De Dio Oh no Oh no Eh Eeeh Sto a morire, regà Sto a morire, regà Zitto, zitto Zitto, vieni parlare Fai da zitto a te È finita È finita È finita ragazzi È finita Andiamo Andiamo ai quarti Oh Dai Grande ragazzi Grande Ho strippato La Roma È ai quarti di finale Dello Champions League Noi Siamo Ro 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 S Roma Ro 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 Grazie Roma Grazie per la visione!